Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi continuiamo col decimo appuntamento di Filosoficamente riflessioni sul pensare e sull'agire, su questa settima e ricca edizione che giunge per l'appunto al decimo appuntamento, ne abbiamo 11 quest'anno rispetto agli altri anni che erano 5-6, anche motivati dal fatto di dover, diciamo così, far fronte a questa pandemia in maniera diversa. La nostra rassegna itinerante in realtà è diventata itinerante in senso telematico, itinerante non proprio nei luoghi ma, diciamo così, nei tempi. Abbiamo spostato anche un po' quella partecipazione dalle 15 alle 16 per cercare di permettere una più estesa partecipazione da parte degli studenti. oggi è la volta della professoressa Fiorella Retucci sul tema che voi già conoscete perché l'abbiamo pubblicato nel manifesto, il civis nel medioevo e la sua dimensione universalistica. Permettetemi di dire solo due parole perché la professoressa è sempre stata parte delle nostre iniziative e quindi probabilmente qualcuno di voi già la conoscerà ma voi sapete che è una professoressa associata di storia della filosofia medievale. Insegna anche a Colonia, a Cologne come Academy Professor o come professoressa, insomma, se volete semplificarvi la vita. È presidentessa del forum accademico italiano e sono sicuro che questo suo sentimento non possa che giovare alla nostra rassegna itinerante che è già molto ricca e che si completa proprio per, come posso dire, per questo aspetto prismatico che caratterizza la rassegna, per dire la possibilità di discutere di argomenti come per l'appunto il nostro, come per l'appunto quello relativo all'educazione civica, in questo caso con la materia trasversale, mi corre l'obbligo e anche il piacere di poter cedere prima che la parola sia data la professoressa Fiorella Retucci al presidente del nostro costo di laurea, Igor Agostini, a cui cedo subito e volentieri la parola per un saluto. prego presidente a te la parola. Grazie vicepresidente, carissimo Fabio e cara collega, carissima Fiorella, soltanto veramente un saluto a tutti quanti e un augurio di buon lavoro. Vi lascio subito la parola, mi fa tanto piacere essere qui. Allora cedo subito la parola alla professoressa Retucci e la ringrazio per la sua presenza qui con noi e per il suo contributo. Prego Fiorella, a te la parola. Allora grazie, grazie a tutti, grazie professor Ciraci, grazie presidente Agostini, ringrazio anche il collega Fabio Sulpizio che vedo collegato, saluto tutti quanti voi che siete lì, anche se in realtà non vedo nessuno, è un po' buffo però so che qualcuno dall'altro lato dello schermo ci sarà. Buonasera a tutti, io vorrei, ora rivedo Fabio, questo mi fa molto piacere, almeno ho qualcuno da guardare. Ok, dunque questo seminario che io ho deciso di presentarvi nasce da alcune domande che da sempre hanno attirato la mia attenzione da quando ero ragazzina a livello personale e che da qualche anno di recente hanno cominciato anche a ispirare, a diciamo a guidare alcune mie recenti ricerche. E queste domande sono quelle che io vi ho sintetizzato nell'abstract e che vorrei rileggere un attimo qui con voi. Allora qual è il posto dell'essere umano inteso sia nella sua dimensione individuale che collettiva in questo mondo? E cosa l'essere umano è in grado ed è anche libero di fare in questo mondo sia come individuo che come cittadino? E poi che ruolo ha la filosofia per la vita dell'essere umano? E in ultima analisi la vocazione filosofica è compatibile con una piena integrazione nella civitas e la sottomissione alle leggi oppure no? Dunque queste domande potrebbero sembrare assolutamente prive di senso se si guarda al Medioevo con le lenti e gli schemi interpretativi che sono troppo spesso offerti dai manuali di storia della filosofia o comunque dai libri genericamente in uso sia in ambito scolastico che in ambito accademico. Molto spesso noi siamo infatti abituati a guardare al Medioevo come ad un lunghissimo periodo buio di oscurantismo, di involuzione, quindi non di progresso e di completo declino della ragione in cui la stessa umanità è completamente privata della sua libertà e soprattutto della sua responsabilità sia a livello individuale che a livello collettivo. Siamo sempre più tentati o spesso tentati di porre il Medioevo sotto il vessillo di un testo che è fatto e visto come il manifesto del Medioevo, del testo che io nell'end out vi ho indicato come testo numero uno ed è un estratto del De Contemptumundi, si vede miseria e condizioni sumane di Lotario di Segni che poi verrà eletto Papa con il nome di Innocenzo III nel 1198. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di leggere questo testo però forse proprio perché è un testo assai forte sarebbe opportuno leggerlo insieme. Allora Lotario di Segni dice quanto più abominevole e inutile l'uomo che beve l'iniquità come fosse acqua, quasi tutta la vita dei mortali è piena di peccati mortali, tanto che è difficile trovare uno che non tenda ad una cattiva strada, che non si converte in vomito, che non imputridisca nello sterco. Preferiscono gloriarsi delle malefatte ed esultare nelle azioni peggiori, ripieni di ogni iniquità, malizia, fornicazione, avarizia, depravazione, pieni di invidia, omicidi, contesi, inganni, malinità, maldicenti, calumniatori, odiosi a Dio, insolenti, superbi, gonfi, inventori di nuovi mali, sconsiderati, sfrontati, senza affetti, senza lealtà, né misericordia. L'essere umano descritto in queste parole da Innocenzo Terzo non potrebbe avere assolutamente alcun ruolo né come individuo né come cittadino. Il massimo che quest'essere umano può fare è cercare di non sbagliare nei limiti del possibile, sottomettendosi passivamente e servilmente ad una serie di regole che qualcuno o qualcosa di superiore a lui ha prescritto nella fattispecie Dio o qualcun altro diverso da lui, la giurta ecclesiastica, magari amministra. Questa è la massima ambizione cui l'uomo può aspirare nel testo che abbiamo oggi letto. Se quindi continuiamo a leggere il Medioevo in questo modo, sicuramente non potremmo trovare alcuna risposta alle nostre domande. Ancora non potremmo trovare risposta alle nostre domande se continueremo a vedere il Medioevo in profonda contrapposizione con quello che è il testo che io ho indicato invece come numero 7 e che è un estratto della Orazio Deogne e Sdignità del Giovanni Pico della Mirandola. Non ve lo leggo perché è un testo abbastanza noto che sicuramente tutti quanti leggiamo nelle nostre letture private o nei percorsi scolastici. La mia impressione è che ci si sia abituati a definire il Medioevo per sottrazione. Cosa voglio dire? Non cerchiamo di capire quella che è la vera natura del Medioevo, ma cerchiamo di descriverlo per sottrazione oppure per contrapposizione a quello che per noi il Medioevo non è stato. Il Medioevo descritto per sottrazione è quindi un periodo in contrapposizione al periodo umanistico rinascimentale che è inteso come un periodo di rinascita e di risveglio tra lungo sonno medievale e che sarebbe appunto rappresentato, che avrebbe come manifesto la Orazio Deogne e Sdignità di Pico della Mirandola. Questa lettura, questa contrapposizione a tinte così forti, ovviamente non manca di puntelli storiografici illustri. Prima, un fa a tutti, voglio ricordare l'opera dello storico svizzero Jacob Burkart, di cui non si può non ricordare il saggio di Cultura da Renaissance in Italia, uscita a Basilea nel 1860, quindi sicuramente ci sono dei precedenti illustri che legittimano questa lettura. Lettura che, peraltro, anche in Italia è stata portata avanti da studiosi del calibro di Giovanni Gentile. Pensiamo ad esempio al saggio, il concetto dell'uomo nel Rinascimento, con cui Gentile porta avanti in Italia quelle che erano le stanze di Burkart in mondo, nel mondo di lingua tedesca. E sebbene molti studi siano stati fatti da allora per cercare di arricchire di qualche sfumatura il quadro un pochino monocromatico, o direi manicheo, di Burkart, tra luci rinascimentali e tenebre medievali, credo che si sia ancora tutt'oggi molto spesso tentati di leggere il Medioevo come un periodo caratterizzato dalla visione dell'uomo che abbiamo letto nel nostro testo numero uno. Ora, un periodo in cui l'essere umano è identificato con il peccatore e l'umanità stessa è vista come una massa da nazioni, si incline a ogni forma di iniquità, non può assolutamente dirci nulla sul ruolo dell'essere umano in questo mondo e su quello che l'essere umano può e deve fare, e come individuo e come cittadino. Nella prospettiva a dir poco pessimistica di Innocenzo III, l'essere umano non può fare nulla di buono, lasciato a se stesso può solo peccare e far male e solo l'intervento salvifico di una forza a lui superiore, quale appunto è divina provvidenza, può permettere a qualche prescelto, attenzione, selezionato non in base ai propri meriti personali, ma solo selezionato grazie ad un imperscrutabile capriccio divino, solo in base a questo imperscrutabile capriccio divino, qualche prescelto può sfuggire al peccato. Ora, io vorrei prendere in esame con voi un medioevo che è per me diverso e che non è il medioevo di Lotario, Di Senni o Innocenzo III, ma è il medioevo di altri autori, di altri testi che ho cercato di sottoporre la vostra attenzione nei testi, nell'end out al numero 2, 3, 4, 5 e 6. Si tratta di autori che sono sicuramente molto meno noti e i cui testi vengono anche molto meno praticati e per tutta una serie di varie ragioni, prima fra tutte, la ragione che questi testi sono spesso ancora inediti, sono trasmessi solo in testi, in manoscritti, non sono accessibili quindi a largo pubblico. I testi che vi ho presentato con l'eccezione di Alberto Magno sono tutti ancora delle trascrizioni basali su fonti manoscritte che io appunto ho scritto e in maniera forse poco decorosa tradotto in italiano. Allora, il primo testo che vi ho presentato, che ho proposto alla vostra attenzione, è un passo dal commento alla fisica di Averroè, il testo numero 2. Chi è Averroè? Averroè è nato a tutti, è un filosofo, giurista, medico e astronomo, arabo di Spagna, il cui nome è Ibn Rushd e il cui nome è latino, con cui è noto l'occidente latino, è appunto Averroè. Vive tra il 1126 e il 1198. Allora, il contesto di questo testo, che io non vi leggo ma cerco di commentare, è a mio avviso abbastanza chiaro. Allora, Averroè qui cerca di spiegare qual è l'utilità delle scienze naturali, in primis della fisica, che per lui è parte integrante della filosofia, perché per Averroè la filosofia ha uno spettro d'azione larghissimo e include l'etica, la metafisica e la fisica. Averroè parte dall'identificare l'utilità della scienza naturale con il conseguimento della perfezione dell'uomo in quanto uomo. Si noti bene che qui uomo non è inteso in senso di maschio, di vir, ma inteso in senso di essere umano, quindi appunto di uomo. Questa perfezione della metafisica dell'uomo non è, continua Averroè, altro se non ciò che alcuni ignoranti, come ad esempio coloro che credono nei testi sacri, chiamano vita eterna. La vita eterna quindi non è un dono gratuito e immotivato della grazia divina, ma è, per Averroè, una conquista tutta umana, che l'uomo può conseguire esclusivamente per il tramite del perfezionamento della propria razionalità. Ora, Averroè identifica insieme ad Aristotele l'essere umano con la sua razionalità, con il suo intelletto e in quel testo che io ho sottoposto alla vostra attenzione, Averroè si spinge ancora più avanti e dice che il nome uomo è infatti usato equivocamente sia per indicare l'uomo intellettuale, quindi l'uomo che fa esercizio della propria razionalità, che per indicare l'uomo in generale. Questa attribuzione del termine uomo, questa attribuzione equivoca del termine uomo all'uomo razionale e all'uomo in generale è talmente tanto equivoca che è come l'attribuzione che si può fare, del nome uomo, che si può fare all'uomo vivente, all'uomo in carne ed ossa e all'uomo invece dipinto, all'immagine dell'uomo dipinto. Che cosa significa questo? Se con Aristotele l'umanità dell'uomo consiste nella sua razionalità, che attenzione solo la filosofia può sviluppare al massimo grado, solo il filosofo è integralmente uomo, anzi è più che uomo, visto che diventa una vera e propria immagine terrena della divinità. Un ulteriore corollario di questa fortissima convinzione di Averroè sono le continue invettive contro i bruti. Chi sono i bruti? I bruti sono coloro che, ignorato il vero senso del loro essere uomini, il vero fine del loro essere uomini, si accontentano della ricerca dei piaceri sensibili. Dunque tutti coloro che si dedicano solo ed esclusivamente ai piaceri della carne sono per Averroè animali e non differiscono dagli animali se non per il fatto che comunque hanno un intelletto in potenza. E questi individui, dice Averroè, non meritano neanche di essere chiamati uomini in senso proprio, anzi in realtà sono i peggiori tra gli animali perché non si dedicano a quello per cui sono nati, non si dedicano a quello che per loro è naturale, non perseguono la propria inclinazione naturale che è vivere secondo l'intelletto ed esercitare la propria razionalità. Allora, non si deve pensare che in Averroè questo abbia soltanto un fine puramente conoscitivo e puramente teoretico perché la conoscenza teoretica non è fine a se stessa, ma per Averroè delle profonde ricadute sulla dimensione etica e anche sulla dimensione politica. L'uomo speculativo, l'uomo intellettuale, l'uomo che esercita la propria intellettualità non rimane chiuso nella sua stanzetta a pensare alle sostanze separate a Dio, no, ha veramente dei fortissimi risvolti sia a livello etico che a livello politico. Perché? Perché l'uomo che si dedica veramente alla scienza, alla sapienza, l'uomo che perfeziona la sua sfera natura razionale è necessariamente, di necessità, senza possibilità di eccezione, virtuoso. E virtuoso non secondo una unica virtù, ma secondo tutte le virtù morali. Quindi la sapienza filosofica da un lato conduce l'essere umano alla cosiddetta felicità mentale per usare l'espressione di una filosofa, di una storica della filosofia che con lei ci ha avuto anche grandi rapporti, che è Maria Corti. Quindi la sapienza filosofica non solo conduce l'essere umano alla felicità intellettuale, ma permette anche il conseguimento della perfezione della vita morale, che è a sua volta il presupposto di una pacifica e perfetta convivenza civile tra gli uomini. Quindi l'uomo speculativo, l'uomo intellettuale, l'uomo in senso proprio, sarà per sua natura giusto, sarà per sua natura temperante e ubbidirà di necessità per natura alle leggi. Perché? Perché conoscerà la sostanza della giustizia. Al contrario, invece, i falsi amanti della sapienza, coloro che utilizzano la sapienza, coloro che utilizzano la filosofia, ma non ne capiscono la vera natura, e a vero identifica questi falsi sapienti con i dialettici, saranno invece da considerarsi dei veri e propri nemici pubblici. I falsi intellettuali sono più pericolosi degli uomini ignoranti. Perché? Perché con loro non si possono assolutamente instaurare dei rapporti di convivenza civile, non si può fare alcuna forma di contratto, dice Averroè, nel passo che vi ho citato, perché tutte le loro azioni sono rivolte al loro utile. Quindi guardarsi dal falso intellettuale e dal falso amante della sapienza. Ora, da questo testo di Averroè, ma anche dagli altri che vi ho inserito in handout, emergono alcune, a mio avviso, alcune idee centrali. Allora, innanzitutto, innanzitutto c'è una profonda fiducia nei confronti dell'essere umano e delle sue facoltà. L'essere umano non è un essere condannato al peccato, come aveva insegnato Innocenzo III, ma è un uomo che per natura è inclina la ragione, è un uomo che è la ragione e ciò che fa di un essere umano un essere umano vero e proprio. Secondo punto, esercitando la propria razionalità, l'essere umano non solo realizza la propria natura, ma diventa anche perfetto e non solo dal punto di vista individuale, quindi raggiungendo una perfezione dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista collettivo, quindi raggiungendo una perfezione a livello politico. Come individuo, l'uomo intellettuale consegue e possiede tutte le virtù morali e come cittadino, l'uomo intellettuale conosce la sostanza della giustizia e la razio legis, quindi automaticamente obbedisce alle leggi. L'esercizio quindi della razionalità è garanzia non solo di un uomo virtuoso, ma anche di un perfetto cittadino. Terzo punto, in questa descrizione dell'essere umano non c'è spazio alcuno per un intervento provvidenziale della grazia divina, che perfeziona e rende migliore l'essere umano, che per natura invece è iniquo. L'uomo per natura, l'uomo in quanto tale, è per Averroè quasi un semidio ed è sicuramente l'unico responsabile della perfezione della natura da un punto di vista metafisico, etico e politico. Quindi si ha in Averroè, ma come si avrà anche in altri intellettuali medievali che su questo punto seguono Averroè, una completa estromissione di Dio sia dall'universo etico che da quello politico, perché è solo l'uomo in quanto tale, l'uomo vero e proprio, che è protagonista della sua vita, sia nella sua dimensione singola che nella sua dimensione collettiva. Vorrei fare poi un'ulteriore riflessione. Molti interpreti, forse giustamente, nel leggere questo passo di Averroè hanno voluto rinvenire le tracce di un ideale fortemente aristocratico, fortemente elitario. Sicuramente non c'è dubbio che Averroè parli di una duplice umanità, un'umanità vera, un'umanità primaria che è consacrata alla razionalità e un'umanità secondaria che invece tutto il resto del genere umano che non si consacra alla razionalità. Io però vorrei fare, vorrei sottolineare un aspetto ulteriore che però secondo me è centrale. L'accesso all'umanità vera e propria non è garantito da elementi che sono estrinseci all'uomo, elementi che quindi un uomo può avere e un altro può non avere, come ad esempio potere, ricchezza, fama o una determinata condizione sociale. L'accesso alla vera umanità, all'umanità vera e propria, all'umanità in quanto tale, è garantita a tutti gli esseri umani, o meglio ad ogni essere umano in quanto è umano. Insistendo sul fatto che ciò che fa di un uomo, un uomo è la dimensione razionale, vero è, a mio avviso, democraticizza completamente l'accesso alla vera umanità, estendendola potenzialmente a tutti gli uomini. Posso fare a dire che ogni uomo ha almeno potenzialmente la possibilità di essere uomo in senso proprio e di essere perfetto nella sua dimensione etica come individuo e nella sua dimensione collettiva come cittadino, perché ogni uomo per sua stessa essenza e per sua stessa natura è animale razionale. Quindi è l'essenza e la natura che garantisce a tutti gli uomini, senza distinzione alcuna, di far parte della vera umanità, quindi di essere umano in quanto umano e in senso proprio e non in senso equivoco. Tutto quello che devia dalla razionalità, quindi con tutte le conseguenze che questo comporta, quindi il non essere virtuoso o il non essere un buon cittadino, è qualcosa di completamente innaturale. Averroia in quel testo parla di una disposizione in naturalis, cioè di una disposizione che devia dal corso della natura. La natura si fa invece garante dell'appartenenza di tutti gli esseri umani al genere, alla specie, meglio, umana in quanto tale, che è una specie sicuramente virtuosa in cui il cittadino dovrebbe di per sé, per sua natura, essere un cittadino modello. Queste istanze, diciamo, intellettualistiche di Averroia trovarono a larga eco nel Medioevo e vi ho portato qui l'esempio di due autori che probabilmente sono ancora meno conosciuti di Averroia e che a differenza di Averroia non sono filosofi ma sono teologi di professione. Nel testo 3 vi ho portato un passo dal commento al De Anima di Alberto Magno che non vi leggerò, non commenterò neanche. Alberto Magno, però vi dico chi è Alberto Magno. Alberto Magno, Alberto in grande, è un teologo, un professore in teologia che è domenicano, che fonda nel 1248 lo Studium Generale di Dominicania a Colonia e lo fa insieme ad un suo allievo che per tutti noi è ben più noto che è Tommaso D'Aquino. Anche Alberto, quindi, che è un teologo di professione, insiste moltissimo sul fatto che la razionalità è ciò che fa dell'uomo un uomo. I testi 4, 5 e 6 sono invece degli estratti da un testo completamente inedito al quale io sto lavorando da anni che è stato scritto verso la metà del 200 da un francescano inglese. Anche lui maestro in teologia a Oxford e Cambridge è comunque un appartenente all'ordine francescano. Se date uno sguardo anche veloce ai testi 4, 5 e 6 si possono subito mettere in evidenza alcune idee centrali. Anche per Tommaso D'Iorque, esattamente come Averroè, nell'esercizio della razionalità consiste quella che è la realizzazione metafisica dell'essere umano, la sua alienazione dallo stato bestiale e il conseguimento della dignità umana. E anche in questo caso la felicità dell'uomo consiste essenzialmente nell'esercizio della razionalità. L'esercizio della razionalità permette all'uomo di vivere in modo perfetto non solo come individuo ma anche come cittadino e di conseguire non solo una pacifica convivenza con gli altri esseri umani ma anche di conseguire una vera e propria forma di felicità politica di aristotelica memoria. Felicità politica che poi predispone a quella che è la felicità speculativa anche in questo caso di aristotelica memoria. Ricordiamoci il decimo litro dell'etica nicoma che è di Aristotele. Le operazioni, questo testo ve lo leggo perché è interessante. Le operazioni umane sono infatti di triplice natura sono di natura propria e sono le azioni secondo virtù dimensione etica sono di natura più propria e sono le azioni dell'uomo politico dimensione politica e poi sono di natura sommamente propria cosa sono le azioni dell'uomo speculativo? A quest'ultima categoria corrisponde infatti l'esercizio di ciò che è in noi di migliore ossia l'intelletto l'uomo che vive secondo l'intelletto è un uomo divino quindi qui abbiamo tutte e tre tutte e tre le dimensioni la dimensione dell'etica individuale la dimensione della collettiva politica e la dimensione dell'intelletto che è una dimensione che addirittura congiunge il mondo umano con il mondo divino e fa dell'uomo un semidio o un dio vero e proprio. Ancora una volta come ho già sottolineato per averlo è anche in queste parole emerge con enorme forza la consapevolezza che l'essere umano non può assolutamente derivare la sua natura da un predeterminato progetto divino come si penserebbe leggendo soltanto il Medioevo tramite Innocenzo III ogni essere umano può anzi deve modellare il suo destino e può e deve farlo sulla base di una scelta personale ed è quello che emerge soprattutto dai testi 4 e 5 in cui vi è l'esaltazione della massima della libertà e dignità dell'uomo e anche una riqualificazione abbastanza importante per il Medioevo della dimensione corporea. Vorrei farvi notare tra le righe che soprattutto nei testi 4 e 5 la costruzione o meglio la fondazione della dignità dell'uomo e della libertà dell'uomo avviene sulla scorta di un testo molto chiaro che è l'Asclepio Asclepio testo ermetico pseudoermetico che è lo stesso testo su cui poi qualche secolo dopo Giovanni Pico della Mirandola costruirà poi la sua razza di uomini stintate. Ora anche per Tommaso di York e per tanti medievali insieme a lui così come per Averroè vale a mio avviso la stessa identica lettura. Tommaso da un lato affida all'uomo e solo all'uomo la costruzione del destino individuale e collettivo. D'altro canto come per Tommaso e per Averroè e per tanti altri intellettuali medievali all'uomo viene concessa anche la possibilità di divenire immortali sempre scegliendo di rafforzare la propria parte razionale la propria parte di scegliere la propria parte intellettuale. La scelta della propria parte razionale è automatica garanzia in tutti questi autori non solo di una piena realizzazione metafisica dell'uomo ma anche di una totale perfezione sia etica che politica. Tommaso di York ma insieme a lui Averroè democraticizza a mio avviso l'accesso alla vera umanità essendendola potenzialmente a tutti gli uomini ogni uomo essendo per natura animale razionale ha potenzialmente la possibilità di essere perfetto e in una dimensione etica e in una dimensione collettiva come individuo e in una dimensione collettiva come cittadino. La differenza tra gli uomini non sta quindi nell'appartenenza ad una determinata classe ma è una questione di scelta personale la natura garantisce a tutti gli uomini senza distinzione alcuna di far parte della vera umanità la deviazione della razionalità con tutte le conseguenze che comporta sia dal punto di vista etico che dal punto di vista politico è una deviazione dal legittimo corso della natura quindi grazie a questa lettura ci troviamo di fronte ad una dimensione veramente universale e ad una prospettiva completamente orizzontale e trasversale che consente a tutti gli uomini senza differenza alcuna di essere uomini in senso proprio e concludo con un'ulteriore osservazione per tutti gli autori che io vi ho presentato e per questo medioevo che io vi ho voluto presentare oggi non c'è assolutamente alcun bisogno di alcuna forma di educazione civica per fare dell'uomo un buon cittadino o dell'uomo un individuo virtuoso la natura stessa la vera natura dell'uomo è garanzia ontologica che permette agli uomini a tutti gli uomini che scelgono di seguire la propria umanità e quindi la via della razionalità di essere uomini perfetti uomini perfetti dal punto di vista etico quindi uomini perfettamente virtuosi e dal punto di vista politico quindi cittadini modello tutti gli uomini sono quindi potenzialmente perfetti cittadini perché tutti potenzialmente possono conoscere la sostanza della giustizia a fatto però di rimanere uomini in senso proprio cioè di non deviare dal costo naturale scegliendo di rimanere ad un livello di subumanità io vi ringrazio per la vostra attenzione grazie grazie molto Fiorella per questa bellissima relazione molto molto ricca è piena di di tante suggestioni devo dire mi pare fra l'altro che tu abbia presentato un medioevo molto più complesso di quello del manuale in cui non c'è soltanto l'otario dei segni con dei concepto mundi con una visione insomma del medioevo piuttosto triste e forse oggi si può anche ricordare che questa corrente che tu fai partire da Aristotele da un certo Aristotele fra l'altro che interseca Alessandro D'Afrodisi Averroè insomma si protende fino alla scuola padovana lo ricordo oggi proprio perché è il compleanno di Galileo Galilei quindi mi piace ricordarlo in linea con questa tradizione che porta dritti dritti alla scienza moderna e io approfitto del mio ruolo di moderatore quindi per farti una prima domanda e dare il tempo poi agli studenti delle scuole nel frattempo di organizzarsi in classroom o con altri strumenti per poterne formulare di altre quello che ti chiederei hai fatto vedere un lato molto come posso dire molto moderno anche del medioevo quali ti sembrano fondamentalmente le linee di confine e le differenze principali lo dico perché ci ascoltano anche gli studenti paradigmatiche tra la visione che è tipica di questo vasto periodo è inutile che io dica che sono otto secoli mi pare di medioevo quindi non è che uno possa proprio essere così tagliare tutto con l'accetta insomma è ovvio che bisogna molto contestualizzare e quali ti sembrano essere ancora invece i paradigmi dell'attualità di queste posizioni a partire proprio dalla centralità dell'uomo e dal fatto che sia nella sua stessa natura la possibilità di essere un uomo civile comincio con questo e poi vediamo cosa ne nasce grazie allora grazie alla domanda io forse voglio essere provocatoria nella risposta io non vedo assolutamente alcuna alcuna differenza che posso orientarci cioè io credo che capisco perfettamente l'esigenza di semplificare di schematizzare di mettere sotto una colonna determinate caratteristiche sotto un'altra altre caratteristiche però sono delle delle divisioni fittizie anche perché il medioevo che come ricordato copre un periodo vastissimo ha dei differenti livelli di sviluppo in differenti aree geografiche quindi la prima risposta che mi aveva in mente mentre mi facevi la domanda era beh forse quello che potrebbe essere una una differenza sostanziale tra il medioevo e quello che verrà dopo è la conoscenza di lingue classiche però neanche questo è vero perché ricordiamoci che ad esempio solo per fare un esempio banalissimo Oxford con Roberto Grostatessa è un e con Bacone poi dopo è un un laboratorio innovativo di traduzione dal greco in cui anche le lingue classiche vengono perfettamente conosciute e tanto che molti molti interpreti anche molti studiosi del rinascimento parlano proprio facendo riferimento a questo filone a questi a questi filosofi a questi traduttori a questi teologi come erano Costatessa e Bacone parlano proprio di una forma di preumanesimo quindi in realtà se io proprio volessi essere spingere ed essere sempre più provocatoria io non vedo assolutamente nessuna non vedo una frattura netta io vedo solo una continuità la frattura netta è stata è un'interpretazione che non risale neanche a Burkhart che risale al rinascimento stesso che si è voluto diversificare da quello che veniva prima solo per per il ruolo dell'uomo no? Sì è quello che ora mi stava avendo un paragone infelice magari me lo permetto è come quando si fa un governo nuovo e si cecco il governo e la novità quando poi i sottosegretari i capi di gabinetto i ministri sono sempre gli stessi ma che cambiano solo ministero e ci sono anche due donne e ci sono anche due donne cioè tutta tutta la storia del pensiero credo sia fatto dal tentativo di vedere delle svolte improvvise e delle rotture molto drastiche e quando in realtà forse 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 a ben vedere non ci sono certo questo è molto difficile dirlo per l'epoca medievale perché perché il medioevo è per noi questo sconosciuto consideriamo che la maggior parte dei testi medievali sono ancora inediti noi non abbiamo idea di cosa ci siano i manoscritti sono delle percentuali impressionanti noi davvero abbiamo di un periodo di mille anni un'idea che è veramente piccolissima e tramite quell'idea come se noi riuscissimo a guardare dal buco della serratura vogliamo interpretare tutto quanto abbiamo cercato di interpretare tutto quanto io quello che volevo farvi vedere è che appena si mette in quel buco della serratura si mette un grimaldello si fa saltare l'intero edificio perché andando a vedere in testi poco noti e sentieri poco battuti magari emergono elementi di novità che fanno cadere l'intera impostazione di fondo senti permettimi di insistere sempre dal punto di vista didattico perché ripeto ci sono degli studenti che ci ascoltano e approfitto obbligamente della tua esperienza e della tua professionalità perché insomma ne riconosco tutta la capacità specialmente perché hai il talento di saper spiegare in maniera molto chiara anche cose molto complicate a me vengono in mente due esempi il primo è il volume del vidotto Giardina Sabatucci che se uno dovesse vedere i tre volumi l'antica la medievale e la storia contemporanea insomma si equivalgono quasi di spessore anzi la contemporanea forse risulta anche un po' più più grosso come volume invece il medioevo che sono come dicevi quasi mille anni è leggermente più piccolo questo ci fa capire quanto sia poi alla fine non facile interpretarlo per la questione della documentazione poi c'è un'altra invece di metodo che secondo me è molto interessante voglio insistere su questo argomento che sono le due interpretazioni fondamentalmente quella che guarda la continuità del pensiero come una sorta di crescendo come una sorta di crescendo che si lascia dietro qualche macerie e qualche residuo e quella invece alla cun che vede invece delle fratture paradigmatiche rispetto al passato ora è ovvio che ci sono sia l'una che l'altra c'è una continuità sia una frattura se vogliamo in alcuni concetti e siccome si tratta di un ciclo relativo all'educazione civica e al civis che è il tema della tua relazione mi chiedevo se potessi e volessi indicare linee di continuità e frattura rispetto all'ultimo periodo per lo meno del Medioevo che è quello che poi apre ovviamente al Cinquecento no sicuramente la storia delle fratture della continuità è una storia vecchia mi ricordo ero sui banchi di scuola come penso molti di coloro che ci stanno sentendo quando rimasi completamente affascinata nella bellissima lezione del mio professore di liceo il professore Darpa che parlava poneva contrapponeva la lettura del Burkart alla lettura del Burdak che pure nell'assonanza dei nomi nella similità dei nomi avevano delle prospettive completamente diverse quindi allora sicuramente ci sono delle differenze sicuramente il Medioevo non è tutto solo quello che io ho presentato ma è anche Innocenzo III nel Medioevo c'erano delle istanze diverse tra l'altro tutte le molte delle teorie che io ho presentato nel Medioevo furono condannate pensiamo ad esempio che Averroè e in gran parte soprattutto le dottrine etiche di Averroè insieme anche alle dottrine fisiche e cosmologiche subirono una condanna nel 1277 ad opera del vescovo a Tientempié di fatto quindi c'erano delle istanze che muovevano contro che volevano che non potevano permettere che si parlasse ad esempio dell'uomo in termini di equivocità tra l'uomo normale e il filosofo perché bisognava parlare di fratellanza universale sotto l'unico vestito di Cristo tutte queste istanze ci sono nel Medioevo è chiaro che nel Medioevo cominciano ad esserci dissidenti che poi prenderanno piede sempre di più nel Rinascimento indubbiamente quello forse che caratterizza la se dovessi dare una risposta un po' così dalle letture che faccio un po' per passione quello che caratterizza di più l'età umanistica e l'età rinascimentale è sicuramente un'attenzione allo studio di nuovo ritorno delle lingue classiche e della filologia per quanto riguarda l'umanesimo che era già stato però avviato in tempi medievali come vi ho detto vi ho fatto un esempio nella Oxford del 200 sicuramente l'impegno civile sull'impegno civile umanistico rinascimentale è scritto delle pagine indimenticabili Garen non può essere sottovalutato anche se abbiamo visto che con richiamo a quello che ho definito il cittadino universale in quanto uomo già nel Medioevo c'era una forte consapevolezza del ruolo civile dell'uomo in quanto uomo razionale sicuramente ci sono sicuramente ad esempio i rinascimentali daranno ancora più peso all'affermazione averroistica per cui l'uomo è detto equivocamente dell'uomo razionale e dell'uomo in generale i rinascimentali insisteranno moltissimo andranno a indagare ad esempio quelle che possono essere le complessioni fisiologiche o addirittura gli input astrali per determinare in un senso o nell'altro l'uomo quindi ci sarà un'insistenza ancora maggiore nel rinascimento su questo Fiorina devo chiederti no ti devo interrompere un attimo perché stanno arrivando un sacco di domande quindi non voglio sottrarre il tempo più che altro gli studenti con le mie anzi ti chiederei forse di prendere qualche appunto perché non sono male la prima ti viene posta a parte dei ringraziamenti per l'esposizione da un anonimo però insomma la domanda è seria il professore Alessandro Barbero dice che il Medioevo non esiste perché una nostra convinzione è chiamare quasi mille anni così così lei che ne pensa questa è la prima poi Stefano Marra del liceo Capece relatore della volta scorsa mi permetto un feedback che spero possa far piacere alla professoressa Rettucci che saluto insegnando al liceo linguistico internazionale a opzione spagnola o la fortuna di fare co-docenza con docenti madrelingua spagnoli insieme si pone particolare attenzione ai fatti storici della penisola iberica terra che ha visto in maniera evidente il rapporto culturale tra filosofia di lingua araba teologia cristiana e tradizione ebraica i giovani alunni colgono con meraviglia la polieditricità del Medioevo la professoressa Elena De Nitti del Virgilio attendibile l'idea che lo scarto da un Medioevo intollerante teocentrico inizia a partire dalla circolazione in occidente delle opere di Aristotele fisica metafisica fino ad allora sconosciute grazie alla collega per la bellissima domanda un'ultima domanda che ti che ti leggo ma ce ne sono anche delle altre già liceo Cosimo De Giorgi come detto dalla professoressa l'idea esposta da Verruè non è di carattere elitario tuttavia è anche vero che non tutti soprattutto nel Medioevo potevano garantirsi un'educazione quindi non avevano la possibilità di affinare le proprie capacità intellettive come si spiega questa contraddizione se vuoi ti faccio ti faccio l'ultima domanda così può rispondere a tutte come si fa di conoscere il falso intellettuale tu hai parlato del ruolo dell'intellettuale e quindi giustamente giunge questa questa domanda che non è mica di poca cosa prego prego Fiorella allora parte la purezza non lo so le domande sono benissime però obiettivamente ci sono a volte ho la sensazione di trovarmelo davanti il falso intellettuale o forse perché le mie aspettative nei confronti intellettuali sono troppo alte o forse perché a volte invece ci sono davvero allora come si fa a riconoscere forse una strada c'è il vero intellettuale il vero amante della sapienza non può essere solo un teoreta qualcuno che approfondisce l'aspetto teoretico ma deve essere qualcuno che mette anche in pratica dal punto di vista etico e qualcuno che poi agisce politicamente in conformità a quelle che sono le conclusioni dal punto di vista teoretico il vero intellettuale è quello che tiene unite tutte e tre tutti e tre i vertici di questa di questi triangoli quindi dimensione individuale dell'etica dimensione collettiva della politica con la vita speculativa e con la vita dell'intellettuale quindi con l'esercizio della razionalità un aspetto senza l'altro fa di un intellettuale un falso intellettuale e poi elitario certo il medioevo era elitario però anche qui sarò forse politicamente scorretta io credo che anche il mondo moderno non sia abbastanza ancora il diritto allo studio forse è solo scritto sulla nostra carta costituzionale però non è sempre veramente realizzabile come è stato pensato il medioevo non esiste sono d'accordo non volevo dirlo però ne sono ne sono sono d'accordo anche perché sicuramente non esiste il medioevo con la con la al singolare sicuramente non esiste probabilmente ci sono tanti medioevi che però sono tutti diversi uno dall'alto ad esempio il riferimento di Stefano Marra che saluto alla penisola iberica nella penisola iberica quello che succedeva contemporaneamente che succedeva lì contemporaneamente mentre da noi succedeva qualcos'altro ci dà esattamente la dimensione di quella che è la policromia la poliedricità appunto nel periodo medievale che è qualcosa di cui dobbiamo diventare sempre più consapevoli e il ruolo credo di aver preso spero tutti gli appunti il ruolo giocato d'Aristotele è fondamentale nella riscoperta di questa forma di razionalità però Aristotele non arriva da solo Aristotele arriva anche accompagnato da tutta una serie di commentatori spesso di religione musulmana e comunque di lingua araba tra cui Averroè che permettono una lettura ancora più provocatoria spesso ai testi aristotelici spero di aver risposto in pochissime parole alle domande che ho avuto forse solo una domanda alle quali chiederei di rispondere in maniera specifica perché mi sembra che forse è rimasta latere è quella della professoressa Elena Denitti che ci chiede se è attendibile l'idea che lo scarto da un medioevo intollerante e teocentrico inizia a partire proprio dalle circolazioni in occidente delle opere diciamo così scientifiche e metafisiche di Aristotele la fisica e la metafisica di Aristotele sì e no nel senso che sicuramente era cominciato anche qualche anno prima però le opere l'opera fisica e metafisica di Aristotele danno un bel input sicuramente però anche l'etica nicomachea che inizialmente non viene non viene vista con sospetto infatti inizialmente i sospetti sono concentrati sulla fisica perché la fisica si faceva portatrice di un'idea pericolosissima quella è l'eternità del mondo quindi inizialmente le tesi eversive dell'etica nicomachea non vengono intercettate ma poi si vede invece che proprio nella condanna del 77 del 1287 moltissime tesi riguardano proprio delle tesi veicolate dall'etica nicomachea di Aristotele quindi si comincia qualche anno prima della ricezione di Aristotele effettivamente un bel input viene dato dalla metafisica e dalla fisica però anche dall'etica tale ha ci sono due ultime domande nell'ordine la prima se veramente nel Medio Oriente i popoli arabi siano rimasti e lo dico in maniera un po' così per pungolarti al Medioevo perché non vi è stata non vi è stato uno sviluppo di quelle premesse che loro stessi in realtà poi avevano avevano posto e che sono poi le premesse le radici orientali le radici islamiche dell'Occidente come l'abbiamo chiamato in un convegno qualche tempo fa in cui la professoressa Retucci c'era anche relatrice e poi la seconda domanda che vuole essere ancora più dispettosa cara Fiorella è quando senti parlare di Medioevo specialmente in tv se non ti vengono meno i brividi vedendo quello che sta accadendo cioè sempre l'accezione negativa nel termine ti ringrazio allora ti chiederei poi di concludere le risposte con una tua riflessione ultima con cui chiudere questo questo semplice grazie ok allora allora per quanto riguarda la prima è profondamente politicamente scorretta a me piace politicamente scorretta allora sì ho l'impressione che all'indomani non all'indomani già mentre avrò era in vita si cominciasse ad avere un'inversione di tendenza con una vittoria diciamo delle delle stanze teologiche più conservateci su quelle che erano le stanze filosofiche che probabilmente hanno portato all'irrigidimento che noi oggi stesso vediamo la manterrei così sul vago la risposta per non essere ancora più politicamente scorretta per quanto riguarda il medioevo in tv non guardo molta tv e onestamente sono contenta di essere riuscita a rispondere alla domanda che per me di essere riuscita io a rispondere alla domanda a cose in medioevo quindi non onestamente non mi faccio tanti problemi se devo concludere con una frase voglio sperare non so se ne sono perfettamente convinta però voglio sperarci e voglio lasciarlo qui come messaggio di speranza voglio lasciarvi con le parole con cui Aristotele apre la metafisica e ve lo dico in latino perché in latino andava molto in latino era diventato una specie di mantra che i medievali si ripetevano omnes homines natura naturalitero natura shira desiderant cioè tutti gli uomini desiderano per natura conoscere e io non sono convintissima che sia vero però vorrei voglio tanto augurarmi che questo vero lo sia quindi vi lascio con questo che per me è un auspicio e un augurio grazie grazie moltissimo alla professoressa Fiorella Retucci per questa bellissima lezione per questo bellissimo seminario ricordo ai nostri amici ai colleghi delle scuole agli studenti che l'ultimo l'ultimo seminario di questo lungo ciclo si terrà mercoledì 3 marzo 2021 e parlerà il sottoscritto spero di essere all'altezza di chi mi ha preceduto il che non è veramente per nulla semplice vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e ringrazio ancora una volta la collega l'amica la professoressa Fiorella Retucci per questo staccato molto interessante sull'uomo sul civis e sulla filosofia medievale grazie ancora a tutti e a presto grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti